Cosa fare se hai dimenticato la combinazione della valigia? Come prima cosa inizia a ruotare la prima rotella fino a quando non vedrai una fessura come in questo caso. Poi fai la stessa cosa con le altre rotelline. Una volta che hai allineato tutte le rotelle con il buco verso l'alto, prova ad aprire il lucchetto. Ovviamente potrebbe non funzionare ma con con la tecnica appena eseguita hai allineato tutte le rotelle. Dunque ruota tutte e tre le rotelle di un numero per ogni rotella e prova ad aprire. Ripeti il passaggio fino a quando il lucchetto non si apre. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale.